in questa lezione vogliamo implementare il primo metodo index, c'è il metodo che ci farà vedere la lista delle foto vediamo un po' proviamo innanzitutto a richiamarlo così di base vediamo che succede ed è photos dobbiamo avviare il server è vuoto la pagina risponde è vuota, non dà indietro niente quindi che cosa facciamo incolliamo questo colice e vediamolo cosa fa data dato il model photo che Laravel sa essere collegato alla tabella photos chiede tutte le foto come col metodo 2.2.all qua dentro noi avremo tutte le foto presenti nella tabella photos poi cosa stiamo facendo le stiamo mettendo memorizzando in un array associativo che ha come chiave photos e come valore l'array delle foto e poi lo passiamo a una vista che si chiama index e li passiamo appunto data abbiamo finito? no non abbiamo finito innanzitutto vediamo dove sta la documentazione di eloquent perché questo metodo all fa parte di eloquent che ricordiamoci essere l'ORM utilizzato in questo caso dall'Aravel ecco la documentazione di eloquent ok ci spiega come creare un model ci spiega table names primary keys timestamp e poi eccolo qua ti sto dicendo con all otteniamo tutti gli elementi della tabella qua ci spiega come fare delle query un po' più elaborate e così via torniamo a noi siamo qua vediamo il browser se ci dice qualcosa e ci dice guarda tu stai cercando una view che si chiama index photos.index ma non la trovo creamela e noi la dobbiamo creare allora questa convenzione photos.index significa che l'Aravel va a cercare una view che si chiama index dentro la cartella photos che sta dentro la cartella views cosa vuol dire questo è views dobbiamo creare una cartella photos e dobbiamo creare un file una vista che si chiama index.blade.php perché .blade.php abbiamo visto essere necessario se noi scriviamo adesso così e torniamo qua ecco che già qualcosa funziona ovviamente non ci sta facendo vedere le foto però sta funzionando il giro è arrivato qua ha richiamato una vista cercandola dentro la folder photos vista che si chiama index che noi abbiamo creato e almeno non ci dà errore ora cerchiamo di fargli mostrare qualcosa andiamo qui e incolliamo il codice allora per semplicità per velocità questi blocchi di codice noi li stiamo incollando direttamente e poi li andiamo a commentare voi nel repository di github comunque troverete tutto il codice pronto quindi non c'è bisogno di dover necessariamente guardare dal monitor ogni singola riga che noi abbiamo messo perché la trovate ripeto la trovate già pronta su github e da lì potete fare copia e incolla allora andiamo a spiegare un po' questo codice questo è un'istruzione if è una condizione di Laravel allora blade è il vengine di Laravel che stiamo usando di Laravel con Laravel quindi noi dobbiamo rispettare la sintassi richiesta da blade chiocciola if è un esempio di istruzione di blade cosa fa questo chiocciola if ci dice se count di foto cioè se la lunghezza dell'area photos che ripetiamo abbiamo passato qua chiave photos eccolo qua è 0 stampaci mostraci un h1 con scritto io è zero photos altrimenti chiocciola else facci vedere faccio vedere le foto con un determinato html ora fuori c'è un'altra istruzione itera le photos all'interno dell'array prendiamo ogni singola foto e la mostriamo mostriamo un valore come facciamo? mettiamo il codice all'interno della graffa quindi graffa graffa in questo caso foto id chiusa graffa poi cosa fa? titolo url e poi url per farlo vedere all'interno di un src di un'immagine a questo punto se noi apriamo il browser eccolo qua qualcosa caricato è quello che volevamo noi ora perché la foto è vuota? perché ancora non la trova cioè il valore c'è però dice slash mg slash 1.png non ce l'ho mi serve gli serve diamogliela come gliela diamo? allora rivediamo lui cerca nella root principale del progetto slash mg eccetera è un url avremmo potuto dargli anche url presenti su altri siti su da altre parti noi vogliamo dargli all'interno url interni al nostro progetto dove le mettiamo? dove le mettiamo queste immagini? le mettiamo dentro public ok? questa è la cartella che contiene di fatto i file statici nella nella root principale del progetto se infatti noi mettiamo dentro public la cartella img che era già pronta ripeto troverete questo tutto quanto nel repository di github ma la cartella img con le immagini l'abbiamo messa dentro public torniamo nel browser refresh e ora ci sono le immagini perché le trova va bene? e attraverte il attraverte per il video